Fuoco nella notte tra sabbata e domenica da Grigento, dove un incendio le cui cause sono ancora poco chiare, ha distrutto completamente la zona esterna dello storico bar Gran Caffè Nobel, lungo il viale della Vittoria, arteria principale della città dei Templi. Le fiamme hanno interessato il gazebo e l'arredamento esterno dell'attività commerciale che sono andati in fumo. L'episodio si è verificato poco dopo le due del mattino. Su posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e una squadra di vigie e fuoco del comando provinciale di Grigento, che ha domato le fiamme dopo tre ore di lavoro. La procura di Grigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per accettare le reali cause del rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri che al momento non escludono nessuna ipotesi, neanche quella dolosa. Le cause della scintilla iniziale non sono chiare. I danni al momento non risultano essere stati ancora quantificati nell'esatto ammontare. Si preannunciano però più che importanti. Sono stati letteralmente distrutti infatti tutti gli arredi esterni, dal gazebo ai tavoli e poltroncine. Il fuoco ha anche danneggiato uno scooter posteggiato di fianco al locale. Parte della carrozzeria di un'autovettura lasciata in sosta sul viale, distrutto invece un secondo ciclomotore. L'assessore comunale al commercio, Francesco Picarella, ha portato la solidarietà e il sostegno a nome dell'amministrazione comunale ai titolari del bar, augurandosi che le indagini possano più presto fare luce sull'accaduto. Confcommercio e Fipe della provincia di Grigento, per bocca del presidente provinciale Alfonso Valenza e della presidente provinciale del Fipe, Gabriella Cucchiara esprime la più totale sentita solidarietà nei confronti dei titolari e dello staff del bar-caffetteria Nobel del Viale della Vittoria, la cui parte esterna nella notte è stata devastata da un incendio. Siamo molto addolorati per quanto accaduto e ci teniamo ad esprimere solidarietà e vicinanza ai gestori e tutto lo staff del locale. Con tanta tristezza leggiamo dai giornali gli sviluppi dell'incendio che ha colpito la struttura. Nonostante non si tratti di nostri associati, ci rendiamo disponibili per eventuali iniziative di sostegno con l'augurio che il Bar Nobel possa riaprire il primo possibile.